Come in un film di Quentin Tarantino, una giovane ragazzina afghana vede come i talebani ammazzano a sangue freddo i suoi genitori di fronte a casa. Anziché scappare, e anche per difendere il fratello, lei prende un Kalashnikov e ne uccide due. Poi viene sfiltrata dalle truppe afghane assieme al fratello e ricevuta come un'eroina dal presidente Ashraf Ghani. I militanti talebani, dice, hanno portato fuori mio padre e mia madre e gli hanno sparato davanti ai miei occhi, ha detto la ragazza. Il padre della giovane, in passato, aveva affrontato esattori talebani che saccheggiavano villaggi e per questo era diventato un obiettivo. La figlia lo ha vendicato.